Inalti ci porta sempre in magnifiche location. Oggi siamo qui a rafforzare un vostro forte legame con questo territorio e a presentare che cosa in particolare? Buongiorno a tutti, siamo qui perché vogliamo portare la filosofia della filiera del latte anche nella punta. Noi circa un paio d'anni fa abbiamo acquistato questa azienda che produce yogurt e all'inizio abbiamo subito dovuto sostituire in base alla società di sostenibilità il vasetto di plastica col vasetto di carta. Oggi vorremmo fare di nuovo insieme agli amici di Coldiretti un accordo di filiera su usando frutta locale e abbiamo trasformato da noi e da attraverso la nostra società di ricerca e sviluppo in Lab Solution. Abbiamo fatto la purea di frutta e usare questa purea di frutta da mettere negli yogurt. Dopo potremo assaggiarli, io ho giunto l'onore di assaggiarli in anteprima, ho visto un'incredibile differenza tra quello prodotto con la frutta fresca nel nostro territorio e quello invece fatto con la purea di frutta acquistata. Poi l'obiettivo sarebbe davvero di trasferire tutta la filosofia che abbiamo sul latte con gli agricoltori, di fare anche qui un audit ai frutteti e di costruire un prezzo indicizzato che paghi la qualità e la scelta nel tempo. Quindi un futuro splendente insomma, speriamo. Noi ci stiamo lavorando, abbiamo avuto una buona esperienza sul latte, abbiamo visto che lavorando insieme si fa squadra, come dice il proverbio africano, se uno vuole andare veloce va da solo, ma se vuole fare una strada lunga va insieme. Bene, ce l'auguriamo.